Ciao, Davito Lecci. Oggi vorrei condividere con te un'altra foto della cometa Panstars. Nel precedente video hai visto questa foto che è stata scattata con un obiettivo, dicevamo, di 18 mm di lunghezza focale. Quest'altra invece l'ho scattata con un 200 mm. Entrambe queste foto sono state scattate comunque in maniera abbastanza fugace. Ieri sera invece, in tutta calma e nella comodità del parco astronomico, mi è stato possibile utilizzare un teleobiettivo da 432 mm di focale e quindi ho scattato questa foto che vedi in questa immagine, ho impostato una sensibilità della fotocamera di 400 ISO e un tempo di esposizione di ben 30 secondi. Ovviamente, a differenza delle prime due che hai visto, qui non è sufficiente il cavalletto per la fotocamera, ma si rende indispensabile una vera e propria montatura equatoriale motorizzata. Si tratta di uno strumento in grado di reggere non soltanto la fotocamera oppure l'obiettivo o anche un telescopio eventualmente, ma addirittura di muoverlo anche con una velocità identica a quella di rotazione della Terra, però nella direzione opposta. E questo permette all'oggetto inquadrato, nel nostro caso la cometa, di essere fotografato con tempi di esposizione anche lunghi, come in questo caso, senza subire alcun effetto di mosso. Riconosco che non è la più bella foto di comete che sia mai stata realizzata, tuttavia, bella o brutta che sia, questa è la cometa del momento, è la cometa di questi giorni, e se vuoi averne un ricordo puoi scaricarla liberamente dal link sotto, all'interno di questo post. Bene, ti ringrazio, ti saluto e arrivederci alla prossima.